e qui ci sono i pazienti più diciamo tranquilli poi questo piccolo qua hanno appoggiato tra virgolette negli altri pazienti qui abbiamo ci sono quelli gravi che non si sono messi i ventilatori per cui queste persone sono costrette ad aspettare scena di guerra come potete vedere questi sono i nuovi non abbiamo neanche più maschere mascherine non è un altro naso non è un altro naso Grazie a tutti.